Avete mai assistito a un momento così toccante in televisione che vi ha lasciati senza parole? Ma cosa ha rivelato Carlo Conti che ha così profondamente commosso il pubblico italiano? Scopriamolo insieme! Carlo Conti, icona della televisione italiana e maestro dell'improvvisazione, ha sempre brillato per la sua capacità di restare al passo con i tempi, diventando uno dei conduttori più amati e ricercati del paese. Il suo talento e il suo carisma hanno reso programmi come Tale e Quale Show degli appuntamenti imperdibili per milioni di italiani. Tuttavia, durante l'ultima edizione del programma, proprio a gennaio, Conti ha lasciato il pubblico senza fiato, con un annuncio personale, inaspettato e profondamente toccante. Nonostante la sua tendenza a mantenere privata la vita personale, quella sera, davanti a milioni di spettatori, Carlo Conti ha scelto di condividere qualcosa di molto speciale. Se anche tu sei rimasto commosso da questa storia e ami i momenti di genuina emotività in TV, lascia un commento qui sotto. Condividi la tua esperienza e cosa pensi dell'amore di Carlo Conti per la sua famiglia. Ha parlato del suo amore incondizionato per la compagna Francesca Vaccaro, conosciuta nei primi anni 2000, e del loro legame, rafforzato dal matrimonio nel 2012 e dalla nascita del loro figlio Matteo nel 2014. Con voce carica di emozione, Conti ha rivelato che il nome Matteo è stato scelto perché significa «dono di Dio», sottolineando come suo figlio sia stato un dono inaspettato e prezioso nella loro vita. Non perderti altre storie emozionanti come questa. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e lascia un like per mostrare il tuo sostegno. La tua interazione è fondamentale per noi. Questa confessione, così personale e sincera, ha toccato profondamente tutti i fan e ha mostrato una faccia di Carlo Conti raramente vista in pubblico. Quella di un padre e compagno amorevole che vede nella sua famiglia il vero tesoro della vita. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!